Il Giro d'Italia ha dato molto a me, mi ha sicuramente fatto conoscere quando lo vinsi, partecipai molte volte, ho fatto molti piazzamenti, quindi mi ha fatto piacere esserci questa sera. Voglio citare un po' quello che sarà il percorso del Giro d'Italia quest'anno, sembra molto selettivo, ci sono tante salite, chi lo vincerà non lo so, mi hanno già chiesto diverse volte che potrebbe essere il vincitore, ma a giudicare da come si conducono le gare al giorno d'oggi, si arriva sempre nel finale con diversi atleti che se la possono giocare e se la giocano sempre con pochi secondi, quindi secondo me sarà un'altra edizione incerta fino alla fine. Di solito le tappe al sud presentano dei percorsi molto trabocchetto, sono dei bellissimi scenari, dei bellissimi posti, però le tappe sono molto insidiose, quest'anno so che quasi sicuramente Scarponi e Ulissi possono essere due corridori importanti per la mia squadra a questo Giro.